ehi ciao a tutti quanti ragazzi sono panino alla sfina e bentornati in questo nuovo video oggi ragazzi sono felice a parte che fa caldo finalmente si sta avvicinando l'estate infatti guardate è venuto il sole a trovarvi pure torri dentro di lui siamo tutti felici qua per oggi ragazzi voglio festeggiare qui con voi una cosa vabbè avete già visto dal titolo speciale primo iscritto oh finalmente dopo poco più di 50 video il mio primo iscritto in questo canale questo bellissimo canale vabbè era ora dico io che cavolo cioè che faccio un video poi ne sono 10 iscriviti vabbè in teoria avrei pure tutto per farci soga ma vabbè ragazzi sapete una cosa che chiunque sia questo primo iscritto io gli dico grazie ma proprio un grazie 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 perché mi sta dando la spinta di continuare ah 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 se lo troverò un giorno gli opero il caffè il gelato e poi però gli dico tu adesso metterai sempre vi piace i miei video ah ah no sto scherzando poi si iscrivete lo devo pure dire ah se vi piace anche voi se vi piace questo video mettete vi piace ah ah no ma in realtà sto scherzando ehm non ha non è il mio primo iscritto no altri no molti cioè non dico che ne ho tanti però non ho unico iscritto anche perché se no l'avrei già chiuso da chissà quanti video il canale se ne sono chi ci iscrive due domande ma che sarei dovuto pure fare ah però diciamo che c'è un messaggio in questo video si c'è un messaggio per voi che state vedendo ma anche per chi si scrive che per me un iscritto non è un numero qualcosa che si aggiunge nel contatore degli iscritti no per me è una persona che sta dando fiducia a me ai miei video e io lo ringrazio mettiamo a caso che io un giorno arriverò 10.000 iscritti un milione di iscritti mettiamo a caso che faccio un milione di iscritti e poi se ci scrive una persona arriva un milione e uno per me quell'uno fa già la differenza perché è una persona è un essere umano non mi connumero uno della calcolatrice vabbè spero che questo video vi sia piaciuto e diciamo che io ero partito bene con questo canale io ero avevo cominciato molto molto serio avevo iniziato con una serietà questi video ti ho dato nei miei primi video e ero tutto ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e invece avevo detto ehi ciao a tutti quanti ragazzi e non lo so diciamo che la serietà si è andata via col tempo nei 50 video l'ho già aperto ai primi 50 se l'ho già aperto ai primi 50 voglio vedere i prossimi video cosa diventerò oddio io mi sto spaventando vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che anche il sole vi sia piaciuto che brilla sempre nei nostri cere e noi ci vediamo in un nuovo emozionante edusiasmante video e io vi aspetto qua ciao a tutti ragazzi al prossimo video vi raccomando salutatemi tutti il criceto il pappagato il cane il gatto e buona giornata buona serata e buonanotte ciao a tutti